Ciao, ciao, mi conosci, sono Almighty, professional trader, profeta del trading Ti faccio questo video per dirti che a breve, non so se faccio una live o un webinar, comunque tutto gratuito dove ti racconto un po' la mia storia e quello che faccio, come trado perché il mio obiettivo davvero non è fare questi social media per perdere tempo questi social media, che ho creato, sto Instagram, sto canale YouTube e tante altre cose le ho fatte per aiutarti, perché io francamente non voglio che a te ti succeda quello che è successo a me cioè che tu vada non in un eserimento nervoso, ma nemmeno in due, nemmeno in tre e non abbia nemmeno una brutta malattia, proprio perché il trading se non sa cosa fare e come farlo ti distrugge, perché tutto fisicamente, mentalmente e poi emotivamente e dopo sono cazzi, come si dice e se vuoi davvero iniziare a vivere la bella vita, lavorando poco, poco, senza sforzo solo premendo un bottone, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro e passare la maggior parte del tempo dove cazzo ti pare, va bene? e scegliere la vita che vuoi fare, allora seguimi e a breve, 10 giorni, una settimana, 5 giorni, avremo questo evento dal vivo, ti ripeto, un webinar, una live su YouTube, dipende, o su Instagram, non lo so perché, intanto non le faccio, francamente la diretta non ho mai fatta per chi ti voglio davvero aiutare, quindi se ti piace questo video metti like, condividilo e se vuoi invitare qualcuno e vorrei rimanere particolarmente sorpreso da quella diretta che faremo sul trading in Fusion, nel mercato regolamentato i perdenti che lavorano nel mercato non regolamentato non me ne parlare, non promuovere quello che faccio io ai perdenti nel mercato non regolamentato perché noi, io, al Mike e al mio team, lavoriamo nel mercato regolamentato dei Fusion, ok? le cose che faccio vanno anche sul mercato azionario o sulle opzioni quindi se ti interessa, seguimi clicca like, condividi e niente, rimane aggiornato perché ti darò una comunicazione ufficiale, ok? ti ricordo che io sono qua perché ti voglio aiutare perché non c'è cosa più brutta di sapere che a qualcuno è accaduta la stessa drammatica storia, la stessa terribile storia che è accaduta a me, ok? quindi mi raccomando ciao e a presto